Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Lina Palmerini, notista politica del Sole 24 Ore, buonasera Lucio Caracciolo, direttore di Limes e della scuola di geopolitica di Limes, buonasera Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera, buonasera Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia e buonasera Andrea Scanzi, giornalista del Fatto quotidiano. Allora parleremo della destra che vince in Abruzzo, della sinistra, il centrosinistra che fine farà, ma di molto altro ancora, subito dopo la pubblicità. Allora Lina Palmerini, cominciamo dall'Abruzzo, la destra vince, viene riconfermato il governatore uscente Marsiglio, che parla peraltro di risultato storico, Giorgia Meloni dice di provare grande orgoglio, ora siccome tu sei abruzzese, hanno ragione ad essere così entusiasti? Sì, hanno ragione perché è una vittoria, è una vittoria molto chiara, quindi Giorgia Meloni consolida il consenso popolare che aveva già avuto alle elezioni politiche proprio in Abruzzo, che è poi il suo collegio e anche Marsiglio riesce comunque nell'impresa di essere confermato, cioè l'Abruzzo è una regione che è sempre stata oscillante, quindi è passata da uno schieramento all'altro negli ultimi anni, quindi sicuramente è una conferma e quindi un ottimo risultato. Dopodiché se vogliamo vedere il caso Abruzzo accanto a quello della Sardegna, in Abruzzo non sono stati commessi errori, in Sardegna l'errore è stata la scelta del candidato, di Truzzo, se c'è una piccola lezione per la destra è che non si vive di rendita, nel senso che anche nelle elezioni locali vanno comunque tenute in considerazione quelle che sono le dinamiche locali, l'unico dato un po' negativo è quello della Lega all'interno e c'è una spiegazione anche locale. E forse Italia che invece ne conquista. Sì, ma diciamo c'è una spiegazione anche locale, nel senso che consiglieri regionali che erano leghisti, cinque mi pare, e soprattutto due dei quattro assessori che erano della Lega sono passati con Fratelli d'Italia, cioè un assessore è stato candidato nelle liste di Fratelli d'Italia, l'altra nella lista di Marsiglio, quindi probabilmente anche questo ha contribuito a togliere consensi alla Lega. Paolo Mieli, quindi chi sono i vincitori e chi gli sconfitti? Perché abbiamo visto ci sono i due schieramenti, il centro-destra ha la Lega che non ha molto da esultare, mentre forse Italia sì, la Meloni ni, forse, beh comunque ha perso tre punti rispetto alle politiche e il centro-sinistra che aveva il campo larghissimo non è servito. Innanzitutto Lina Palmerina ha detto una cosa che nessuno osserva mai, che è la prima volta, se non vado errato, che in Abruzzo viene confermato il governatore precedente. E per quello che Marsiglio parla di... Beh, insomma, la prima volta, cioè da quando ci sono le regioni, ogni volta si cambia governatore e quindi vuol dire che si è preso una bella soddisfazione. Dopodiché, secondo dato che mi colpisce e che mi sta colpendo un po' di tempo è che noi dovevamo Forza Italia per morta dopo la morte di Berlusconi, invece Forza Italia ha una sua vitalità perché rappresenta uno spazio politico vero. Terzo, ha perso una lettura totalmente sballata, data anche da me, quindi, del risultato delle elezioni sarde. Allora, in Sardegna c'è una signora, la Todde, che ha vinto per pochissimi voti, pochissime contestatissimi voti, in un contesto dove le liste hanno, le liste di centrodestra hanno stravinto, se fossimo state ai tempi dei vecchi partiti, quella stravittoria delle liste sarebbe stata esaminata punto per punto. invece la Todde è stata presa come una Madonna pellegrina, portata in giro per l'Italia come se fosse lei che ha fatto il miracolo, mentre invece, e dopo la seconda volta, la giornalina Palmerini, lì ha perso il candidato, c'era un candidato sbagliato, punto. Vabbè, il candidato sbagliato però. Beh, però la mancata lettura ha fatto sì che tutta la sinistra, me compreso, si ubriacasse e pensasse che bastava portare la Todde dopo che aveva incontrato Patrick Zaki lì una settimana in Abruzzo e si ricompriva il miracolo. Una cosa che me lo rimprovera a me stesso, perché com'è stato possibile che c'era qualcosa di evidente già nelle elezioni sarde da non prendere in quel modo così demenziale e uforico? Ma forse, bisogna cospargersi, deve cospargersi di cenere, Paolo Mieli, tu Andrea Scanzi condividi questa lettura e Giorgia Meloni oggi, che peraltro ha incontrato i leader del centrodestra a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione dopo le elezioni abruzzesi e prima del Consiglio dei Ministri che si è occupato tra l'altro anche di fisco, Meloni dice che è importante essere coesi, non è tanto importante il campo largo, larghissimo, ma è importante essere coesi e questo di sicuro è un aspetto fondamentale. Essere più coesi del centro-sinistra è abbastanza facile, allora tu prima domandavi chi aveva vinto e chi aveva perso le elezioni, sicuramente ha vinto la Meloni, sicuramente ha vinto Tagliani, sicuramente ha vinto addirittura noi moderati, che è una forza che su scala nazionale prende l'1% in provincia dell'Aquila, ha preso il 7%. Quella di Lupi, guidata da Lupi. Di Lupi, certo, questo ci fa anche capire una certa eccezionalità della regione, Abruzzo, come tutte le regioni hanno le loro caratteristiche, ha vinto la Meloni perché fino a un mese fa era una vittoria scontata, non lo era più e quindi laddove avesse perso sarebbe stato un bel disastro anche su scala nazionale e quindi è giusto che stia esultando, l'unico che non esulta nel centro-destra è Salvini per i motivi che in parte avete già detto. Io ho una chiave di rottura molto diversa rispetto a quella che ha detto Paolo, che riguarda il cosiddetto campo largo. Paolo ha finto di dimenticarsi un piccolissimo particolare, anzi due. Intanto è importante la scelta del candidato, quindi possiamo serenamente affermare che la Todde ha convinto molto più del candidato abruzzese, quindi non è che se Truzzo era brutto, tra virgolette, questo vanifica i meriti della Todde. La Todde è stata un'ottima scelta, D'Amico è stata una scelta meno buona, ma il piccolo particolare che Paolo ha finto di non ricordare... Sardegna c'è la SORU... Aspetta, infatti stavo arrivando esattamente a questo, non avete ancora sottolineato che non state parlando dello stesso campo largo e a me fa ridere che ancora non abbiate capito quello che per me è evidente, fino a quando penseranno nel centro-sinistra che il campo largo è più grande se tutti ci stanno dentro, non capiranno nulla. Ci sono degli elettori di sinistra, dei 5 Stelle, che se vedono Calenda e Renzi nel gruppo non votano. In Sardegna Calenda non c'era, Renzi non c'era e questo ha fatto bene al campo largo, non è che se ci sono 5 forze per forza prendi più voto di 3 forze come c'erano in Sardegna. E aggiungo, è stato uno spettacolo pietoso per il campo largo in Abruzzo, io non l'ho mai visto nel mondo, 5 leader che si candidano alleati, nelle ultime due settimane hanno fatto tutti la guerra agli alleati, Conte che diceva con Renzi non ci sto, con Calenda non ci sto, Renzi che diceva sono contento di aver fatto cadere Conte, il PD è diventato un partito di Poltronari, Calenda che faceva i post dicendo non c'è niente di peggio dei 5 Stelle, stavano insieme. Come fai a votare una forza dove la gente sta insieme unicamente perché l'alternativa è la Neroni? È chiaro che non ti votano, quindi è stato un accrocchio che è stato bocciato. La Schlein esulta perché ha preso un bel risultato, la capisco, ma se quella è la strada del campo largo secondo me non c'è futuro. Sei d'accordo Italo Bocchino, era una vittoria scontata quella del centrodestra in Abruzzo? A quella del centrodestra in Abruzzo era una vittoria scontata che poi a un certo punto c'è stato un impazzimento generale come ha spiegato Paolo Mieli e per una questione su cui poi ci arriviamo un attimo, relativa alla Sardegna ci si era convinti che si potesse cambiare i risultati elettorali in Abruzzo. Scusa, ti interrompo solo un secondo per ricordare ai nostri spettatori che in Abruzzo il centrosinistra partiva rispetto al candidato Marsilio a meno 20 e poi in realtà hanno preso meno 7 punti, quindi comunque ha vinto bene Marsilio. Non è proprio così perché l'altra volta non c'erano i 5 stelle con il centrosinistra, Marsilio ha vinto perché è passato dal 43 della volta scorsa al 53 di questa volta. Il centrodestra ha stravinto perché ha preso il 55%, il 55% più dell'altra volta. La Meloni ha stravinto anche con Fratelli d'Italia perché dobbiamo sommare ai voti della lista 24%, il 5% della lista Marsilio che è una lista di persone di Fratelli d'Italia, quindi è arrivata a quel 30% che è poi l'obiettivo nazionale. La lettura della Lega è corretta quella che fa Lina Palmerini, cioè lì la Lega nel momento della massima espansione, ha preso un pezzo di classe dirigente che veniva da Alleanza Nazionale, ma nel momento della diaspora della destra era senza una casa. È tornato indietro e in parte è andato anche a Forza Italia. Il campo largo è diventato non solo un campo stretto, è diventato un campo arido, un campo secco, nel senso che non c'è il progetto. La Sardegna politicamente l'ha persa il campo largo perché ha preso il 49% la maggioranza e il 43%, 6 punti in meno. Ha vinto perché c'è stata la coincidenza, quasi impossibile riprovarci, di una scelta di truzzo da parte del centrodestra che era in rottura con la città di Cagliari e non se ne erano accorti e quindi ha perso 20 punti percentuali a Cagli. E da parte del campo largo la scelta di una candidata come la Tod, che si è rivelata un'ottima candidata, ha preso 50.000 voti in più della coalizione, di cui solo 5.000 da voto in disgiunto e 45.000 suoi. Quindi diciamo, lì è pure vinto per 1.500 voti, quindi è stato un incidente di percorso irripetibile. Quello che emerge in maniera chiara, al di là proprio delle appartenenze, è che oggi non esiste l'alternativa alla maggioranza di governo perché quella è una coalizione che da 30 anni sta insieme con quelle tre culture politiche che comunque portano avanti un progetto, hanno gli stessi valori, gli stessi programmi e lo stesso leader di l'anno, valori tutti diversi, programmi tutti diversi e non sanno chi è il leader. Come potranno mai vincere in questa situazione? Lucio Caracciolo, scusate, voglio sentire Lucio che tra l'altro è già nelle librerie edicole, da domani, ecco, da domani troverete l'ultimissimo numero di Limes che si intitola Una certa idea di Italia. Adesso poi ci dirai che cosa, che idea di Italia esprimete perché nel numero di Limes è quello che vorremmo che fosse, è quello che stiamo vedendo con i risultati abruzzesi e di queste analisi del voto. Cosa ti convince di più? Perché dice Bocchino che il cosiddetto campo largo, quindi il centro-sinistra molto allargato, è un campo secco, non esiste e dall'altra parte però dice che il centro-destra o destra-centro hanno gli stessi valori. Allora, il campo largo è larghissimo ma non è un campo, è un insieme di campi e campieri e campetti che si sono messi insieme in quanto ciò che non è destra o centro-destra, questo è l'unico punto che li tiene in qualche modo insieme. Poi che questo possa esprimere un'alternativa di governo? Francamente non riesco a immaginare come, anche perché appunto essendo un insieme di campi e campetti non ha un vero comandante, sono dei subcomandanti per usare una metafora messicana. Quindi non vedo dal punto di vista della Meloni ragioni particolari di preoccuparsi, i problemi la Meloni li avrà con i fatti, con la dura realtà di amministrare una fase politica e geopolitica molto complicata. E sulla politica estera hanno gli stessi valori nel destra-centro? Beh, direi fondamentalmente di sì, il problema è che più che valori hanno un riferimento che storicamente sono gli Stati Uniti d'America, il quale è in fase di sbandamento e quindi seguire la linea americana oggi è diventato un po' complicato rispetto a quando se ne occupavano De Gasperi o Andreotti. Un po' più complicato, scusa Lina, tu prima volevi... No, perché volevo dire anche a proposito di quello che si sta dicendo del campo largo e della sconfitta. Una cosa che va detta è che insomma chi ha perso voti è stato il 5 Stelle, cioè il partito di Conte. Anche qui c'è una spiegazione locale. Prima Paolo Mieli parlava della buona affermazione di Forza Italia. Beh, teniamo conto che la candidata governatrice nelle ultime due elezioni in Abruzzo dei 5 Stelle è passata in queste elezioni con Forza Italia e verosimilmente ha portato un pezzo di suoi consensi a Forza Italia. Tra l'altro i 5 Stelle in Abruzzo sono sempre stati abbastanza forti, oltre che alle politiche anche alle regionali sfioravano il 20%, quindi questo spostamento della candidata nelle liste di Forza Italia sicuramente oltre a sottrarre consensi probabilmente ha creato anche uno sbandamento nell'elettorato dei 5 Stelle. Quindi quello che bisogna fare, ora io non sono d'accordo con questa analisi per cui il campo largo è fallito, perché un test non è un fallimento, è un inizio di una strada sicuramente in salita. Che quello che ha detto Ellis Line oggi, ha detto abbiamo perso ma abbiamo riaperto la partita. Ma non alternative, cioè pensare di fare un campo largo soltanto perché si presenta una proposta di legge sul salario minimo e ci si presenta insieme a un'elezione locale è un po' troppo. Diciamo che bisogna lavorarci e bisogna lavorare su quelle che sono le distanze. Penso per esempio anche al centro del centro-sinistra, cioè a Calenda, l'idea di fare un centro volubile, che non si sa da che parte si schiera. Ma dice Scanzi che viene l'orticaria a tutta una parte dei 5 Stelle se ci sono Renzi o Calenda. Ma l'orticaria esiste anche nel centro-destra, solo che il centro-destra ha saputo dare una prova di tenuta della strada e di tenuta nel governo. Il problema è che anche il centro se non si schiera, e la dimostrazione è Forza Italia, Forza Italia rappresenta un centro ma un centro schierato. Anche lì bisogna lavorare per creare una poesione, ma buttare questo esperimento, questo campo largo già nel cestino, insomma vuol dire che allora questi singoli partiti non hanno l'obiettivo grosso di presentarsi come alternativa. Miele Scanzi, introduco anche, scusa Miele, il fattore astensionismo, perché uno su due non è andato a votare. Quindi questo dell'astensionismo ha ragione Calenda quando oggi ha detto che è ormai una cosa patologica e di cui dovremmo preoccuparci tutti. E degli astensionisti ha bisogno del campo largo se vuole vincere, perché tantissimi astensionisti stanno nel centro-sinistra. Io sono convinto che Lischlein è la persona adatta per andare a pescare negli astensionisti, purché sia se stessa. Allora, il campo largo, avete ragione voi, si può forse costruire, ma si costruisce tappa per tappa. La prima tappa è fra PD e 5 Stelle, visto che sono i due partiti maggiori, non mi piace, ma quello offre, tu la costruisci, dopo, una volta che l'hai costruita, che hai vinto due o tre volte in una regione, in un comune, allarghi se vuoi a Calenda. Ma l'idea, questa avete ragione voi, di mettere insieme, anzi ha ragione scanzi. Una lista in cui Calenda ogni giorno è costretta a dire che sputa nella minestra dell'alleanza. Ma pensi che dopo le europee potrebbe cambiare qualcosa? Perché le europee, legge proporzionale, insomma, questo... Allora, le europee si contano, le europee è una grande costa, dopodiché in tutte le amministrative che ci sono, dopo le europee provano prima a costruire in telaiatura e poi fare, se no, il campo largo. Sono dieci anni che ne sentiamo parlare, è una porcheria che non si crede, cioè, tutti insieme perché c'è stata a Calarenza. Soprattutto non è un capo, cioè il problema è che un'eterogeneità tale può essere messa insieme solo da uno che è presentabile come futuro capo del governo e non mi pare che attualmente né la Schlein né Conte abbiano questo formato. E' questo quello che manca, Scanzi Bocchino, un capo, ovvero un leader di questo campo largo? Manca anche questo, non solo. Intanto quando Schlein due settimane fa diceva con entusiasmo il vento è cambiato, diceva una cosa che lei sperava ma che non era la realtà. Guardate anche quello che è successo in Portogallo dove l'estrema destra è passata dall'1.7% al 18%. Il vento non è cambiato. In Europa vince il centro-destra, spesso il destra-centro. Quindi c'è una realtà contingente che fa sì che il campo largo, che ha già tutti i difetti pregressi che avete detto voi, ha pure questa congiuntura astrale negativa. Dopodiché i 5 Stelle sono i grandi sconfitti di questa contesa elettorale. Perché? Perché quasi sempre non toccano palla alle regionali, perché non hanno la classe dirigente nel territorio, perché hanno perso il pezzo più forte come diceva Palmerini che è passato in Forza Italia, perché non sono riuscita a riconvincere gli astenuti, perché molti non gli perdonano il fatto di aver governato con tutti, ma insisto anche perché non sto dicendo che hanno ragione. Sto dicendo che l'elettore 5 Stelle è un elettore particolarmente esigente, è un elettore particolarmente noioso, tra virgolette. Quindi evidentemente in Abruzzo ha torto, ha ragione, si sono sentiti schiacciati in qualche modo dal Partito Democratico, hanno visto che accanto c'era Renzi, hanno visto che accanto c'era Calenda e hanno perso. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, sto dicendo ragazzi che se noi vogliamo dire stasera che il campo largo è mettere insieme Calenda, Renzi e Conte, a me viene da ridere. Ma cosa vogliamo aspettare più di quello che già è successo? Renzi l'ha fatto cadere e Conte 2. Calenda ogni giorno va in televisione contento come non so chi quando perde i 5 Stelle. La realtà secondo me è il modello sardo, è facile, è difficilissimo, ma quella è l'unica fisce che hanno. Quindi immagino che i 5 Stelle faranno finta, o giustamente o no, di essere sempre più lentani dal Partito Democratico fino a giugno, si conteranno come ha detto Garacciolo e si come non credo. Conte avrà un voto in più di Schlein, farà finta di essere il leader e detterà la linea al PD in maniera tale che parlino soltanto con Frato Dianni e con Conte. Se vincerà la Schlein, Conte avrà ancora meno potere. Italo Bocchino? Io credo che il primo problema che si dovrebbe porre il campo stretto è quello di decidere qual è il leader. Un leader deve essere accattivante, un leader deve essere fascinoso, un leader deve sapere comunque trascinare anche emotivamente l'elettorato. C'è la Schlein. Noi dobbiamo dire, adesso ti rispondo su questa tua tesi che da tempo porti in giro. Allora, porti in giro. La Meloni, porti in giro la tesi che la Schlein può essere la leader di questo. La Meloni... Lo può essere la Schlein? La Meloni lo è talmente tanto, ad esempio, che molti di sinistra ci dicono poi a microfoni spenti, meno male che ci vediamo la Meloni, la vorremmo avere anche noi. La Schlein non ha nessuna possibilità di diventare un leader. È una gruppettara. So che sto toccando gli amori di Paolo Mieli che poi sotto, diciamo, questa apparenza di principe degli opinionisti nasconde il solito comunista che c'è lui, quindi vede la gruppettara e quindi è molto contento e molto felice. Ma insomma, adesso sono tesi ardite queste. Però voglio dire, non ne azzecca una sulle proposte della Schlein. Conte è un furbacchione meridionale che ha sfilato il partito a Grillo. Si è liberato nel tempo per varie cose di Di Maio, di Fico, della Raggi, di Di Battista, eccetera, eccetera, si è fatto il suo partito, un suo misura, aspetta sulla riva del fiume il cadavere del leader del PD per cercare di prendere un voto in più e dire sono io il candidato. Così non si va da nessuna parte. Qual è il programma comune? Sul 90% delle cose sono in quattro, hanno quattro tesi diverse. Rapida replica di Mieli, poi vedevo che Lina Palmerini non era d'accordo. Io dico che la Schlein è una trascinatrice che ha delle caratteristiche da Presidente del Consiglio e quindi non è vero che siano così sguarniti. Quello passa al convento, lì si devono mettere d'accordo prima di allargare il campo a chi passa. Cominciano da lì, avendo Conte come proposta, casomai il cielo gli desse una vittoria a delle improvvise elezioni politiche, punto e basta. Punto e basta. Io invece sulla questione di chi guida la coalizione, anche la Meloni non è che guida la coalizione da anni, cioè guida la coalizione da quando? Da quando c'è stato il sorpasso? Il rigolo dei voti Lina, gli altri no. Aspetta, finisco. Da quando c'è stato il sorpasso di Fratelli d'Italia sulla Lega, che tra l'altro la Lega Salvini addebita proprio al fatto che l'hanno in qualche modo spinto ad appoggiare Draghi. Lì c'è stato il sorpasso di Fratelli d'Italia. Quindi, voglio dire, anche Meloni è diventato a campo di una coalizione, ma è qualcosa di recente che deve vulturare anche nel centro-sinistra. Vorrei dire anche una cosa su Conte, perché qui due partiti che stiamo analizzando sono da una parte i 5 Stelle e dall'altra la Lega, che sono due partiti che oggi sembrano in declino. Ma i 5 Stelle non sono così in declino come la Lega, perché i 5 Stelle dai risultati del 2018, proprio per effetto di un cambio di strategia e di leadership, cioè Grillo-Dimaio invece è arrivato Conte, sono riusciti a conservare la metà dell'elettorato, cosa che non è successa alla Lega. Quindi nella Lega invece c'è un problema anche di leadership, oltre che di dimensione locale. Che rischia di esplodere al più tardi dopo le europee. Lucio Caracciolo, ma nel nuovo numero di Limes una certa idea di Italia. Chi ci sta dentro questa certa idea di Italia, di questi leader che abbiamo citato, analizzato, Giorgia Meloni? Prende il Vaticano, quest'idea di Italia. Molto semplicemente, tutto molto interessante, anche il discorso che abbiamo fatto stasera, però stiamo parlando prima di un voto sardo e poi di un voto abruzzese, cioè di frazioni del popolo italiano. E non vorrei che alle prossime elezioni regionali traiamo sempre conclusioni cosmiche da un voto molto specifico. Ci ho detto, il ragionamento che proviamo a sviluppare in questo numero di Limes parte da un paio di dati di fatto. Questo paese dipende dal punto di vista della garanzia del debito dalla Germania. La Germania è oggi il paese sconfitto nella guerra tra Russia e Ucraina perché ha perso tutto quello che poteva perdere. Ha perso il gas russo, sta perdendo il mercato cinese, ha perso la credibilità della sua leadership in Europa e quindi se la Germania va male scarica su di noi almeno una parte dei suoi guai e questa non è una buona notizia. Dall'altra parte per la sicurezza siamo totalmente dipendenti dagli americani, i quali è inutile raccontare come sono messi. Certamente non siamo il primo dei loro pensieri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che o ci rendiamo conto che dobbiamo assumerci delle responsabilità che prima delegavamo, il famoso vincolo esterno, oppure siamo fregati, nel senso che siamo travolti da eventi su cui non abbiamo un controllo. E poi soprattutto non affrontiamo... Ma già Meloni può essere in grado? Allora per esempio sulla questione della struttura dello Stato io penso che le proposte che oggi fa la Meloni, non quelle di ieri che mi parevano sensate e cioè la famosa autonomia differenziata siano devastanti. Già abbiamo uno Stato parcellizzato in cui non si capisce mai chi sia responsabile di cosa, aggiungiamo ulteriori poteri, sottopoteri, altri poteri, magari facciamo insegnare la storia del Veneto nelle scuole venete e quella della Sicilia nelle scuole siciliane, facciamo dei progetti infrastrutturali che arrivano in Malisi ma in Abruzzo no perché il governatore dell'Abruzzo non è d'accordo con quello del Molise. Mi pare veramente che siamo fuori strada sotto questo profilo. Primo. Secondo il fenomeno migratorio. Noi non possiamo continuare a trattarlo come un'emergenza avendo la demografia che abbiamo. Questo paese da dieci anni non fa che perdere abitanti. fra 4-5 anni l'età mediana in Italia sarà di 50 anni ma vi spiegate voi come fa a reggere un sistema sociale minimo di welfare con una popolazione che è per metà più di 50 anni? Nessuno tocca questo tasto, ormai poco anche le forze di Centro Sisa che sono molto pragmatico questo ragionamento ovviamente. Voglio chiedere Paolo Mieli perché siccome hanno fatto molto discutere, anzi hanno scatenato un puttiferio in queste ultime ore le parole di Papa Francesco Caraccio l'ha citato la guerra in Ucraina a proposito dell'Ucraina. Bergoglio ha detto è più forte chi ha il coraggio della bandiera bianca quando vedi che sei sconfitto devi avere il coraggio di negoziare. Il pontefice dice quello che non si può dire perché ci sono state tante reazioni anche poco fa il cancelliere tedesco Scholz ha detto che non è d'accordo con le parole del Papa. Insomma ci sono state tante reazioni, tanto sconcerto, tanta approvazione anche per queste parole del pontefice. Il pontefice dice quello che molti non hanno il coraggio di dire perché siccome la situazione è quella che è descritta nella prima parte del discorso che ha fatto adesso Lucio Caraccio. Gli Stati Uniti hanno altri problemi, la Russia sta prevalendo e l'Europa fatica, ogni giorno ne tira fuori una, insomma fatica a trovare un punto d'intesa, il pontefice dice ragazzi avete perso e quindi insomma alzate la bandiera bianca. Se vuoi la mia opinione io considero fortunato che un suo predecessore, Pio XII, nel giugno del 40 non abbia detto le stesse parole perché nel giugno del 40 l'Europa era totalmente, l'Europa continentale tranne l'Inghilterra, totalmente nelle mani dei fascisti e dei nazisti, cioè era tutto, aveva perso nel giugno del 40. Per fortuna quel pontefice esecrato per essere adesso stato troppo silenzioso con Hitler, non disse ragazzi alziamo badire bianca e negoziamo. La Francia lo fece, negoziò, gli dedero il regime di Vichy, fu un negoziato e fu contenta la Francia. Il regime di Vichy fu votato quasi all'unimentazione. Allora, io però ti fermo Paolo Miri, no perché voglio chiedere alla Corte Suprema, Lucio Caracciolo, se questo paragone si può fare con più di dicesimo. Tutti i paragoni storici sono forciati. No, però siccome abbondiamo diciamo in questo momento storico. Io tendo francamente un po' a diffidarne perché ognuno recupera quello che del passato gli interessa recuperare e naturalmente lo usa come interpretazione del contesto attuale, però c'è un aspetto che mi pare piuttosto rilevante delle famose dichiarazioni di Francesco, cioè lui dice una cosa contraddittoria, arrendetevi e negoziate, le due cose non stanno insieme, se ti arrendi non puoi negoziare. È vero che noi in Italia abbiamo sviluppato un'interpretazione un po' evolutiva di che cosa sia un armistizio l'8 settembre, abbiamo detto questo è un armistizio, in realtà era una resa incondizionata. Se tu Ucraina ti arrendi non hai più nulla da dire, semplicemente sei alle condizioni che ti mette Putin. Se invece, come credo, è possibile negoziare, ma secondo me bisogna farlo presto perché fra un anno si continua così, di Ucraina non resta molto, allora forse riusciamo a salvare il salvabile e lo dico con una punta di egoismo anche da parte di chi poi comunque vada a finire dovrà accollarsi gran parte della ricostruzione dell'Ucraina, cioè noi europei. Cioè fino a che punto noi siamo disposti a impedire che l'Ucraina diventi un buco nero in cui una pezzo è la Russia, un pezzo è qualche banda criminale e così via? Fino a che punto siamo disposti, Andrea Scanzi? Ci ricordiamo che in quel colloquio con il finto leader dei leader africani, Giorgia Meloni, erano poi questi comici russi, lei in realtà già mesi fa parlava di war fatigue, di stanchezza della guerra e quindi fino a che punto possono reggere anche le opinioni pubbliche? Visto che poi c'è un'altra guerra di cui parleremo la prossima volta con Lucio Caracciolo, quella di Gaza che è cominciato il Ramadan, il mese sacro per i musulmani e a Gaza non ci sono tracce né di una tregua né di un miglioramento della situazione. Andrea? Fino a quanto andremo avanti credo poco, credo che la situazione purtroppo sia davanti agli occhi di tutti, anche di coloro che speravano che la strategia europea funzionasse. Temo che Papa Francesco abbia detto quello che è la realtà, poi magari per qualcuno quello che ha detto Papa Francesco suonerà potignano perché questo è un paese dove il dibattito a volte è completamente capovolto, però temo che abbia ragione, segnalo se noi vogliamo fare una ricaduta politica anche su questa vicenda, che sulla politica estera c'è un altro elemento di profonda divisione all'interno del campo l'arco. Quello che ha detto Caracciolo, che io condivido dall'inizio alla fine, non è condiviso da buona parte delle forze politiche di centro-sinistra perché sull'Ucraina e più ancora su Israele e Palestina conta un punto di vista, Schleini ne ha un altro, Bonnaccini ne ha un altro ancora, Renzi c'era ancora più diverso, Calenda c'era ancora più diverso e frato gli anni è quello più filo palestinese, quindi è chiaro che se la pensi diversamente su un tema nevralgico come questo è molto difficile trovare un punto di ricaduta. In realtà su Gaza sono più vicini, sull'Ucraina sono più lontani. Poi le posizioni si evolvono anche, c'è pensare che esista una definizione una volta per tutta, secondo me è sbagliato anche perché poi l'altro elemento guardo Lucio Caracciolo sono le elezioni negli Stati Uniti, quindi quello è un altro elemento diciamo... Ma di queste divisioni credo che a Kiev e a Gaza non importi niente a nessuno, questo è poi il punto. Certo, però invece è richiesto un aggiornamento delle posizioni anche alla luce di quello che accadrà negli Stati Uniti, perché lì immagino che cambierà molto la posizione, se dovesse vincere Trump, la posizione degli Stati Uniti riguardo all'Ucraina. Se l'America avesse una posizione potrebbe cambiarla, ma siccome ne ha cinque contemporaneamente è un po' difficile. E' un momento di grande confusione anche oltreoceano e anche lì incombono, come si direbbe, le elezioni e io vi riporto col punto di Paolo Pagliaro invece in Italia alla transizione ecologica che non è così semplice. Guardate. La transizione ecologica non gode di buona stampa. A pochi mesi delle elezioni europee c'è una corsa a depotanziarla, negarne l'efficacia e la necessità in nome delle superiori ragioni dell'economia. La transizione green con le sue restrizioni non piace ad automobilisti e agricoltori, alle imprese che consumano energia e a quelle che la producono. I popolari, primo partito in Europa, sconfessano i precedenti impegni sui tempi della decarbonizzazione. Un po' ovunque il no al green deal affianca il no all'immigrazione come carburante propagandistico dell'estrema destra. L'informazione sembra molto più attenta ai costi della riconversione verde che ha le vite stroncate anzitempo per malattie legate all'inquinamento. Ci sono però sacche di resistenza nelle regioni, nei comuni, soprattutto tra i giovani. Le loro buone pratiche sono state al centro di Circonomia, il festival dell'economia circolare che si è tenuto a Fano. Immaginando la transizione ecologica come una maratona tra le regioni italiane, è stato presentato un rapporto che rivela quali sono quelle con le migliori prestazioni di sostenibilità ambientale. È una classifica che tiene conto di emissioni climalteranti, produzione di rifiuti e raccolta differenziata, consumo di suolo, percentuale di rinnovabili sulla produzione di energia, tasso di regolarità edilizia e di motorizzazione elettrica, qualità del paesaggio. Gli interventi descritti nel rapporto dimostrano che il Green Deal non solo è indispensabile per fronteggiare la crisi climatica, ma è anche una grande occasione di innovazione e competitività economica. In cima alla classifica ci sono Trentino Alto Adige, Marche, Lombardia, Veneto e Toscana. Grazie Andrea Scanzi e ricordo che dopo domani mercoledì tu sarai col tuo spettacolo La Sciagura a Reggio Emilia. Grazie Lina Palmerini, grazie Italo Bocchino, grazie Lucio Caracciolo. E qua ho due cose da dirvi. Uno che c'è da domani il nuovo numero di Limes dal titolo una certa idea di Italia. Due, che la scuola di geopolitica di Limes ha posticipato, cioè ha allungato i termini per l'iscrizione perché avete avuto tantissime richieste e quindi fino al 25 marzo. Sì, 25 marzo. Beh, complimenti. E anche io vado. Anche tu andrai e quindi grazie Paolo Mieli, grazie spettatrici e spettatori. Adesso vi lascio a Corrado Augias e alla sua Torre di Babele che si occupa per l'appunto di democrazia. Serve ancora la democrazia? Visto che solo l'8% della popolazione vive in un paese democratico. Quindi state con noi e noi come sempre domani, 8 e mezzo.